Proseguono i preparativi in casa Barletta in vista del derby storico contro il Foggia. Domenica si va allo Zaccheria con tante motivazioni, con la voglia di fare bene del neotecnico e dei nuovi arrivi. Gli ultimi il terzino Bruno ed il centrocampista Cerone. Tra i nuovi c'è anche il portiere Gabrielli, ex Lecce Paganese. Il vice Di Masi parla di ritrovata a serenità ed entusiasmo. Le due settimane sono servite al neotecnico Marco Cari per conoscere tutti. Il mister Cari è un ottimo tecnico e da quando è arrivato ha portato innanzitutto serenità che un po' mancava. E poi ci ha fatto sentire una squadra aiutandoci l'un l'altro, non buttandoci mai a terra, incoraggiandoci sempre a dare il massimo, a giocare a calcio. Sicuramente ha portato entusiasmo e si vede dagli allenamenti. Indisponibili sicuri, infantino, menicozzo e rana, 700 i barlettani al seguito a galvanizzare i biancorossi. E' proprio la rivalità storica tra le due tifoserie. La possibilità di invertire il trend in un derby di lusso. Il tutto per cominciare a costruire mattone su mattone la salvezza del barretta. Che cosa vi siete detti nelle spogliatoie in vista di un match attesissimo, perché sappiamo bene tutti quanti della rivalità storica che c'è tra le due tifoserie? No, noi stiamo preparando al meglio questa gara perché sappiamo quanto la tifoseria ci tiene a questo evento. E ti ripeto, noi diamo il massimo ogni giorno, ogni allenamento, per poi domenica dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi. Cosa ti aspetti da questa stagione, Gabriele? Sicuramente di prendere quanto prima la salvezza. Poi a livello personale se ci sarà l'occasione di poter scendere in campo, di dimostrare il mio valore.